Celezione di eventi da giugno ad agosto alla Basilica del Santuario Sant'Apria del Sasso a Bibbiena. Siamo con padre Giovanni e si comincia sabato con una messa giubilare del padre, proprio Giuseppe Serrotti, nel sessantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. La modezia di mio fratello mi ha impedito di capirlo prima, tra la Pasqua e il mese di maggio. Un santuario frequentato e siamo ridotti. Quando l'ho saputo dico cerchiamo di rimediare in qualche modo, perché la data precisa è il 15 giugno, quando fu ordinato il sacerdote 60 anni fa. In termini profani si direbbe le nostre di diamante. Quindi mi sono messo in moto per organizzare qualcosa di importante. Il primo appuntamento ovviamente a questo qui, a chi tocca tocca, vediamo che ci sarà sabato alle 18 a Santa Maria. Però poi abbiamo rimandato un momento ugualmente importante per tutto l'ordine rubinicano all'8 di agosto, quando è la festa annuale di San Domenico. Lì ci saranno i francescani della Verna. Lo sai c'è una tradizione secolare nella quale noi andiamo alla Verna per San Francesco e i francescani vengono da noi l'amicizia di San Domenico e San Francesco. Lì ci sarà proprio quella serata assolutamente definitiva, importante, che intendiamo dedicare a questo. Nel mezzo c'è anche, come ogni anno, quel grande concerto di Fabriciani nel 23. Quest'anno però, prendo opportuno e grazie a voi, a Rezzo TV, che ci dà modo di sapere alla gente questa cosa, ogni anno c'è il 23 di giugno questa grande festa. Quest'anno, capita di domenica, festa del Corpus Domini, quindi tutte le parrocchie hanno le grandi processioni, quindi abbiamo anticipato a sabato 22 il tutto. Quindi c'è il concerto, c'è prima la Messa, il concerto, poi c'è la grande scena offerta a tutti. e venite anche voi, perché grazie, siamo in genere 300-400 persone dopo la Messa e dopo il concerto che si mangia a linea chiostro.